Belvedere, nonostante l'obbligo di dimora, sorpresa rubare. I carabinieri denunciano a 49 anni. I carabinieri della stazione di Belvedere hanno denunciato un precidicato di 49 anni del luogo per un furto e un tentato furto in abitazione. L'uomo, già gravato dalla misura cautelare dell'obbligo di dimora per tentato e estorsione commessa nel 2016 a Siracusa, è sospettato di essere l'autore del furto di una bicicletta elettrica e del tentato furto di una pompa sommersa. A conclusione di attività investigativa svolta anche attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 49enne che si sarebbe introdotto in una villetta nella frazione di Belvedere, da dove avrebbe asportato la bicicletta del valore di oltre 1000 euro. Inoltre, in un'altra villetta, dopo aver scavalcato il muro di cinta, avrebbe tentato di asportare la pompa sommersa, ma è fuggito nel momento in cui è stato sorpreso dal proprietario. Le violazioni accertate sono state immediatamente segnalate all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento della misura cautelare in atto nei confronti dell'uomo integrandolo con l'obbligo di presentazione giornaliera alla Polizia Giudiziaria.